Un saluto dal Tg della mobilità. Sino al 12 luglio sulla Laurentina si svolgeranno lavori notturni tra le 21 e le 7 nel tratto all'altezza della rotatoria di Trigoria in quella all'altezza della rotatoria di Ardea. In base alle esigenze di cantiere sono previsti restringimenti o sensi unici alternati. L'intervento di manutenzione programmata del piano viabile è a cura di ANAS e sino al 28 giugno di notte tra le 21 e le 6 si svolgerà la seconda fase dei lavori di riqualificazione di via Bracianese. Questa volta è interessato il tratto tra via della Sorte e via Antonio Petito, il cantiere comunicato con ordinanza dalla città metropolitana e a cura di ANAS. E' tutto appuntamento alla prossima edizione.